Il comune di Umbertide mette a disposizione dei pensionati un fondo da 92 mila euro per combattere il caro bollette. La giunta comunale su proposta dell'assessore ai servizi sociali ha infatti approvato questo importante provvedimento per aiutare gli anziani con pensioni basse ad affrontare l'aumento dei costi per le utenze relativi a luce e gas. Sono a disposizione 92 mila euro destinati a nuclei familiari composti da soli pensionati per il pagamento delle utenze domestiche. Per quanto riguarda i nuclei familiari composti da un singolo pensionato i requisiti sono i seguenti. Reddito complessivo anno 2021 inferiore a 13 mila euro risultante della dichiarazione dei redditi 2022. Giacenza media del conto corrente o del libretto deposito riferita alle 31 dicembre 2021 non superiore a 10 mila euro. Per i nuclei familiari composti da due o più pensionati i requisiti invece sono questi. Reddito complessivo anno 2021 inferiore a 16 mila euro risultante della dichiarazione dei redditi 2022. Giacenza media da conto corrente o libretto di deposito riferita alle 31 dicembre 2021 non superiore a 15 mila euro. I contributi erogati saranno pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da un pensionato e 500 euro per i nuclei familiari composti da due o più pensionati. Sono stati inoltre stanziati 10 mila euro destinati all'emergenza abitativa da destinare a famiglie in difficoltà economica che non dispongono delle risorse necessarie per far fronte ai canoni di locazione o che rischiano di subire procedure di sfratto o le hanno già subite.